Carissime amiche, carissimi amici, carissimi tutti quanti che seguite sempre il mio canale, ancora buongiorno, benvenuti, benvenute a tutte e a tutti. Oggi andiamo ad apprendere un altro lavoro ancora, fra i tantissimi che comunque andremo via via sempre di più a esplorare e a sperimentare, soprattutto voi. Un lavoro molto interessante, molto forte, molto effettivo, funziona molto bene, ve lo posso garantire. Fatelo con fede, come dico sempre, fatelo con tranquillità e certezza che vedrete i risultati. Questo lavoro ha una duplice funzione, sia di addolcire, sia di dominare la persona che vi interessa, che logicamente magari si comporta in un modo o freddo o assente, oppure vi ha bloccato, oppure c'è e non c'è, oppure non ne vuol sentire ragioni delle vostre opinioni. Insomma, tutte quelle situazioni dove una persona che a voi interessa o che amate è diventata assente, fredda, o se non fredda comunque sia alla testa altrove, diciamo così, e voi volete riportarla sulla terra, ovvero da voi. Guardate bene, un piatto normalissimo, può essere bianco, può essere di vetro, un piatto pulito di casa vostra. Una candela viola, di colore violetto o lilla, che è molto associato alla forma del pensiero, quindi fate del vostro meglio, ma come ripeto sempre, le candele, i colori si trovano, eh? Se non li trovate nel negozietto o nel magazzino, quello che è, li trovate sul web, su internet, basta fare un piccolo ordine e vi fate un po' di scorta di candele, perché a volte arrivano una marea di domande, mio Dio, scusate, in privato, non ho il colore, come faccio? Lo compri. Ecco, non è difficile. Quindi, colore violetto, viola, eh? Questo colore qui è molto importante. Qualcuno potrà dire di nuovo, ma io non la trovo la candela. Io vi dico, se volete fare questo lavoro, fatelo preferibilmente, assolutamente, per avere un risultato veramente forte con questo colore, eh? Quindi a voi, ovviamente, come sempre, la scelta e a voi anche un pochino l'impegno di reperire ciò che vi serve, eh? Niente, è impossibile, anzi direi che è abbastanza semplice. Benissimo, quello che vi servirà in aggiunta a questa candela è dello zucchero, normalissimo zucchero, e un poco di cannella, più una coltellina per lavorare e per incidere potete usare o la punta della coltella o di un ago, oppure anche uno stecchino, eh? Perché dobbiamo scrivere su questa candela. Allora, come si fa questo lavoro? Intanto si parte, eh, dalla candela, eh? Dallo stoppino, partendo sempre dallo stoppino. Quindi, dallo stoppino verso la base, voi andate a scrivere il nome, il vostro nome, cioè scusate, abbiate pazienza. Andate a scrivere dallo stoppino alla base. Ecco lo stoppino, ecco la base. giriamo un po' meglio, va? Che le cose diventano più semplici. Allora, dallo stoppino alla base, andate a scrivere una sola volta, basta, il nome della persona che vi interessa. Io vado a scrivere un nome di fantasia, eh? Quindi, il nome della persona che vi interessa. Se avete la data, mettetela, mi raccomando. Allora, mi è venuto questo nome, poi mi è venuto un cognome, in mente. Questa volta non è Mario Rossi, eh? Ecco fatto, ci siamo quasi. Poi se vi cade un pochino di cera è normale. E poi mettiamo una data di nascita, eh, boh, non lo so, tipo 19, va? 19, eh, 7, mi viene questo, del 2000. Fate del vostro meglio, insomma. L'importante è che ci sia questa marcatura. Mentalizzate bene la persona, eh, mi raccomando. Sopra, andate sempre, o con lo stecchino, oppure con la punta di un ago, o la punta di un coltello, andate a scrivere, invece, il vostro nome, cognome, data di nascita. In questo caso io mi invento un altro nome e lo scrivo mettiamo Luca inventiamoci un cognome oggi ho molta fantasia rispetto agli altri giorni ho detto Luca Ballini, va? Luca Ballini che è nato il 15 maggio 1980 vai mettiamo così anche se è arrivato in fondo va bene lo stesso non c'è problema l'importante è che voi andate proprio a marcare sopra sopra il nome della persona che vi interessa i vostri dati questo significa a livello simbolico il vostro potere il vostro predominio non in senso cattivo logicamente ma in senso di controllo di un controllo su questa persona di ottenere una forma di pensiero di atteggiamento diverso fatto questo voi girate la candela trovate lo stoppino io l'ho trovato abbastanza facilmente perché già sbucava dalla candela comunque se non lo trovate avete visto anche altri video dove si si va un pochino a a scavare con la punta e si tira fuori lo stoppino perché andiamo ad accendere la candela ovviamente al contrario dobbiamo virar come si dice virar vuol dire proprio virare girare il pensiero di questa persona eccolo qua lo stoppino dall'altra parte tagliate via la punta quella originaria in modo tale poi di poter attaccare bene la candela così la candela poi verrà accesa all'incontrario diciamo proprio in questo modo quindi mettiamo un attimo da parte a questo punto cosa fate prendete dello zucchero ve ne mettete un pochino tra le mani e andate generosamente a strusciare a passare questo zucchero sulla candela mentalizzando la persona facendo affermazioni positive come per dire tu da questo momento diventerai molto dolce molto dolce molto tranquillo tranquilla accetterai le mie opinioni mi sbloccherai vorrai parlare con me con tranquillità la tua freddezza andrà a dissolversi il tuo malumore tutto quanto ti tiene lontano o lontana da me andrà a dissolversi con questa dolcezza dello zucchero perché lo zucchero è un elemento magico e ricordiamocelo è un attrattivo è un addolcente antichissimo quindi andate veramente a manipolare la candela strusciando questo zucchero facendo proprio tutte le affermazioni che sono poi il contrario di come si comporta la persona quindi tu ti calmerai diventerai amabile dolce cambierai la tua opinione vorrai stare parlare con me mi vorrai cercare mi sbloccherai tutto quello che vi pare a voi e andate a passare bene lo zucchero finché proprio non vi sentite quel campanellino che vi dice ok basta va bene così una volta fatta questa operazione la fate più o meno con un pochino di cannella prendete sempre nella mano un po' di cannella e andate di nuovo a passare la cannella sempre facendo queste affermazioni qui magari riprendete anche dal piatto zucchero e cannella quindi sempre tu tal dei tali sarai attratto attratta da me il tuo pensiero cambia cambia completamente viene viene verso di me non contro di me accetterai quello che ti voglio dire vorrai stare con me vorrai parlare con me vorrai vedermi tutta la freddezza tutto l'orgoglio tutta la confusione tutte le interferenze se ne vanno dalla tua testa e andate avanti con queste affermazioni a parole vostre in questo modo quando come dico sempre vi sentite ok lasciate pure nel piatto vedete che io ho fatto tipo un po' un anellino lasciate pure anzi deve rimanere nel piatto lo zucchero e la cannella che abbiamo usato andiamo a fermare questa candela vediamo un po' la fermiamo con i fiammiferi oggi ho i fiammiferi dopo un bel po' di tempo che li avevo oddio uno si è già rotto ok andiamo a fermare la candela in mezzo all'anellino all'anello di zucchero e cannella quindi scaldiamo la base quella dove c'era lo stoppino e ricordatevi questa cosa quello che abbiamo fatto non è a caso per niente andiamo ad attaccarla e adesso andiamo ad accenderla ad attivare questa nostra magia sempre mentalizzando bene la persona e facciamo prendere la candela poi se come nel mio caso non vi prende no problem si va sempre con calma si riaccende con calma e si fa prendere non abbiate mai dubbi fretta nervosismo quando lavorate non abbiate problemi non fatevi problemi se la candela per dire in questo caso non si accende o lo stoppino è corto andiamo per dire a fare così può succedere sono cose perfettamente normali andiamo a tirare su lo stoppino non è una grande difficoltà andiamo a riprendere lo stoppino e andiamo e andiamo a magari a tagliare un pochino di cera in più in modo che ovviamente si accenda in maniera corretta andate a fare un'operazione di questo tipo quando si va a fare il viraggio della candela può succedere che alla prima lo stoppino lo prendiamo subito però a volte può andare più in basso poi se vi sembra che la candela non sia ben attaccata la riattaccate ma nel mio caso mi sembra di sì quindi riaccendiamo questa candela con pazienza andiamo ad accenderla vediamo un po' cosa succede abracadabra c'è molta cera quindi si va un pochino a spegnere ma dovremo arrivarci dovremo arrivarci ci siamo arrivati e che fiamma addirittura lunghissima di buon auspicio allora carissimi e carissimi avete visto come si fa il lavoro a questo punto rimanete ancora un po' concentrati su questo lavoro perché è un lavoro molto efficace effettivo può essere ripetuto anche più di una volta quindi potete farlo anche più di una volta secondo il vostro sentire secondo come si muove la situazione non c'è alcun problema tra l'altro fatelo fatelo anche tranquillamente nel giorno che vi pare non ci sono giorni particolari non ci sono fasi lunari da seguire il lavoro effettivo in qualunque fase lunare sperimentato da tantissimo tempo così come c'è stato tramandato quindi voi fate andare la candela mentalizzate la persona mentalizzate tutta la scena di come volete che la persona torni mentalizzate scene contrarie alla situazione che vivete siate carichi cariche proprio come dico sempre mostrandovi la mano come si fa in Brasile una palma da sua mano nel senso come già se tutto fosse nella vostra mano e questo è quello che comunque va in genere ad accadere quindi mentalizzate la persona mentalizzatela molto bene con grandissima positività con grandissima passione amore dolcezza dovete trasfondere dentro la sua mente queste cose anche anche non solo sulla candela come l'abbiamo lavorata e poi ecco una volta che vi sentite a posto come dico sempre lasciate pure andare la candela che guardate sta prendendo sta prendendo molto molto bene non vi preoccupate delle colate non colate cosa che mi viene chiesta spesso ogni candela ha una sua energia si muove in base all'energia delle persone e quindi non è quello il punto che faccia colate o non colate potrebbe dissolversi come potrebbe fare un mucchio di cera ma comunque sia l'intento arriva nella mente nella mente soprattutto e anche nel cuore della persona quindi con questo lavoro sia di dominio e anche di grande addolcimento carissimi e carissime anche per oggi io vi saluto vi ringrazio per essere presenti beh vi rinnovo anche l'invito ad iscrivervi al mio canale se vi piace il canale ovviamente mi fa molto molto piacere aiutate anche questo canale a diffondere questi insegnamenti e se volete iscrivetevi date un like insomma in modo tale che questo canale cresca e magari possa essere di aiuto a persone che ancora non lo conoscono comunque sia io vi ringrazio sempre sempre per la vostra presenza che è veramente grande tanta tanta sono molto molto grata a tutti voi a tutte voi vi mando un grande bacione tantissimo asce e ci vediamo nel prossimo video